Ciao, benvenuti su Live Taste TV per una nuova puntata di 180 secondi di vini. Quest'oggi la Cantina Sedilesu di Mamoiada, dal cuore della Sardegna, ci propone questo Ballutundu, un canonau di Sardegna DOC riserva 2010. Il nome di questo vino deriva da un ballo tipico sardo, un ballo molto gioioso che viene fatto in tutte le sagre e feste, soprattutto in Barbagia. I vitigni, coltivati ad alberello, hanno più di 100 anni di età e sono dislocati a un'altitudine di circa 650 metri sopra il livello del mare. I suoli sono caratterizzati da un disfacimento granitico. Questo è un canonau in purezza che subisce una maturazione in botte e un successivo affinamento in bottiglia. Questi due passaggi caratterizzano questo vino per un'ottima struttura. Ma adesso andiamo a stappare la bottiglia. Iniziamo con la degustazione. Questo canonau di Sardegna ha un colore rosso rubino, che ha già delle venature di granato. È un vino di ottima consistenza, lo vediamo come rota nel calice. Al naso. Mamma mia, ci colpisce la forza dei suoi profumi. Sono frutte molto mature. È una forte speziatura. Frutti rossi. È davvero complesso e molto intenso. Fine comunque. Al gusto. È un vino poderoso. Ha dei tannini molto ben lavorati, finissimi. È molto lungo, persistente. È proprio un gran vino. Il nostro abbinamento di oggi con questo canonau di Sardegna è un abbinamento assolutamente non tipico. Io lo vedrei a fianco a una cassola milanese, che è un piatto che ha una buona base di grassezza, quindi fatto con diversi tagli di maiale e verze. E questo vino gli si affianca egregiamente. Io anche per oggi ho concluso. Vi aspetto alla prossima puntata di 180 secondi di vini, sempre su LiveTaste TV. Un saluto da Federica. Cin! Un saluto da Federica. Un saluto da Federica. Grazie a tutti.